Quella notte me la ricordo bene. Ho fatto la stessa strada di sempre al buio, ma con più paura. In paese c'erano i nazisti e le storie sui rastrellamenti si moltiplicavano. Ho tagliato per il boschetto, su per il sentiero sconnesso e sono arrivata alla buca. Un fosso sotto un rovetto di more dove ogni tre giorni mi facevano trovare le munizioni fresche. Ho raccolto tutto e sono tornato a casa. Ho infilato la gonna, gli stivali e tutta una cintura di cuoio con sotto un intero caricatore per la mitraglietta. Poi ho preso le bombe a mano trovate nella buca. Ci ho riempito il paniere. Le ho coperte con uno strato di ciliegie e sono partita per i monti. Ho attraversato il paese. Arrivata al posto di blocco mi hanno fermato subito, sbarrandomi la strada col mitra. Ma io sono stata calma, pronta. Ho preso un po' di ciliegie e le offerte ai tedeschi. Mi hanno guardato storto per una lunga manciata di secondi, finché non hanno afferrato le ciliegie e mi hanno detto «Danke». Io ho sorriso. Mi ho detto «Bitte». Mi hanno riaperto la strada e sono ripartita per i monti a testa alta, fiera, con sette chili di bombe a mano dentro il cesto. Per aiutare una persona anziana basta fare quello che hai appena fatto. Ascoltarla. Diventa volontario Seneca. Da 12 anni accanto agli anziani soli. Bastano due ore a settimana.